Il Gran Premio d'Italia, i due italiani appaiati in sesta fila, gli Arno Trulli un po' più avanti di Giancarlo Fisichella. Allora, sarà una gara dura comunque per voi? Per noi sarà una gara molto in salita. Staremo a vedere, comunque abbiamo già visto questa mattina che valore in campo per noi non sono un granché. Dobbiamo solo cercare di fare una buona partenza e cercare di limitare i danni. Grazie.